I verbi semideponenti. Allora, oggi spieghiamo dei verbi un po' particolari. Sono sei verbi latini che presentano una diatesi mista, cioè una forma mista, per metà attiva e per metà deponente. Quindi, ci sono alcune forme verbali derivanti da alcuni temi che possono essere quindi attivi, sia nella forma sia nel significato, e altre forme verbali che sono passivi nella forma ma attivi nel significato. E vengono definiti verbi semideponenti. Questi, pur conservando sempre quindi il significato attivo, hanno forma attiva generalmente nei tempi derivati dal presente e forma passiva nei tempi derivati dal perfetto. Ma non sempre così. Adesso vedremo, ci sono delle eccezioni. Allora, quindi i verbi semideponenti hanno forma attiva, nelle forme derivate dal tema del presente, e forma, diciamo, passiva. Forse qua c'è un errore. Forma passiva nelle forme derivate dal tema del perfetto. Ok. Forme composte sono quelle derivate dal perfetto. E hanno la forma passiva. C'è un errore qua. Quindi, il significato è sempre, diciamo, attivo, ma la forma può essere o attiva o passiva. Insomma, adesso vediamo la coniugazione che potete vedere sul vostro libro rosso. Quindi, il libro di grammatica, che io non ho. Ecco, comunque, guardiamola insieme. Ecco, questo è il verbo audeo, che non è da confondere con audio. Audeo vuol dire io oso. Quindi, audio, audes. Audet, audemus, audetis, audet. Vuol dire io oso, tu osi, egli osa. Noi osiamo, voi osate, scusate. Essi osano. Bene. Poi c'è l'imperfetto. Audebam. Audebas, au devat, au devatis, au devatis, au devatis, au devatis, au devatis. Io osavo. Il futuro, au debo, au debis, au debit, eccetera. Io osero. E direi che non ci sono grossi problemi. Ecco, al perfetto, e tempi derivati dal perfetto, invece è, la forma è deponente, ma il significato è sempre attivo. Quindi, ausus sum, vuol dire io osai. Io ho osato, io ebbi osato. Ok? E così poi il resto della coniugazione. Il più che perfetto, ausus eram, vuol dire io avevo osato. Ausus ero, vuol dire io avrò osato. Ecco, poi vi studiate comunque tutta la tabella di coniugazione sul vostro libro rosso. Passiamo al congiuntivo. Audeam, au deas, au deat, au deamus, au deatis, au deant, vuol dire che io osi, che tu osi, che egli osi, che noi osiamo, che voi osiate, che essi osino. Poi l'imperfetto, auderem, della seconda, ricordate, audio, eh? Che vuol dire che io osassi, che tu osassi, che egli osasse, che noi osassimo, che voi osaste, che essi osassero. Il perfetto, ausus, ausa, ausum, simsissit. Ausi, ause, ausa, simus, sitissint. Vuol dire che io abbia osato, che tu abbia osato, che egli abbia osato, che noi abbiamo osato, che voi abbiate osato, che essi abbiano osato. Poi, ausus, ausa, ausum, smsisset. Ausi, ause, ausa, e semus, sitissessent. Vuol dire che io avessi osato, che tu avessi osato, che egli avessi osato, che noi avessimo osato, che voi aveste osato, che essi avessero osato. L'imperativo presente, formativa, au de, audete, osa tu, osate voi. L'imperativo futuro, ricordate che l'anno scorso abbiamo studiato l'imperativo futuro, eh? Audeto, audeto, audetote, audento. Si può tradurre sia come imperativo sia come una specie di futuro, no? Quindi, oserai tu, oserà egli, oserete voi, oseranno essi. L'imperativo futuro non ha la prima persona, però ha la terza, a differenza del presente, che ha solamente la seconda, eh? Bene, passiamo ai modi indefiniti. E quindi abbiamo l'infinito, che è audere, osare, l'imperfetto, scusate, c'è un errore di stampa, il perfetto, cioè l'infinito perfetto, ovviamente, che è ausum, ausam, ausum esse, ausos, ausas, ausa esse, che vuol dire avere osato. Nell'infinito futuro, ausurum, ausuram, ausurum esse, ausuros, ausuras, ausura esse, che vuol dire stare per osare, essere per osare. Passiamo ai participi, che sono audens, audentis, che si può tradurre in tanti modi, non col participio presente italiano, però, eh? Quindi, o osando, oppure colui che osa, oppure che osa, o mentre osa. Ecco, il participio perfetto, ausus, ausa, ausum, che quindi vuol dire osato, quindi essendo stato osato. Ma attenzione, noi abbiamo già studiato un'eccezione, abbiamo già studiato, vi ricordate, che ausus, in realtà, ha un significato anche di attivo, osando. Eh? Ricordate che abbiamo studiato, la volta scorsa, quando abbiamo studiato i participi, eh? Ecco, lo troviamo nell'osserviamo che, all'inizio della pagina 19. Il participio perfetto, i verbi semideponenti, ha spesso valore di participio presente, quindi osando, non solo avendo osato, ma anche osando. E quindi, scusate, col valore attivo, sempre, sempre attivo. Poi, il participio futuro, ausurus, ausura, ausurum, vuol dire che oserà. Il gerundio, non l'abbiamo ancora studiato, comunque vuol dire di osare. Il gerundivo audendus vuol dire da osare, che deve essere osato. Il supino ausum, per osare. Supino inu, invece, supino ausum è il supino attivo, diciamo inum, mentre supino inu vuol dire da osare. Questa è tutta la coniugazione del verbo deponente. Adesso lavoriamo insieme. Se volete, possiamo spegnere la registrazione. Eh, sì, spegniamola. E quindi, a questo punto però, scusate, completo la spiegazione, con tutte le cose che sono scritte qua. Cioè, i verbi semideponenti sono audio, gaudio, solio e fido. E anche i due composti di fido, confido e diffido. Quindi, audio vuol dire osare, gaudio vuol dire godere, solio vuol dire essere solito, fido vuol dire fidarsi, confido vuol dire confidare, diffido vuol dire diffidare. Attenzione, il verbo semideponente reverter si comporta all'opposto, cioè ha le forme del presente deponenti, diciamo, e le forme del perfetto regolari attive. Quindi il paradigma è reverter, reverteris, reverti, che vuol dire io ritornai, insomma, e poi l'infinito reverti, che vuol dire ritornare. Quindi è deponente nel presente, nei tempi derivanti da questo, e non nel perfetto, nei tempi derivanti del perfetto. Sono comunque attestate anche le forme regolari reverto e reversus sum. I verbi fido, confido, diffido, reggono in genere il dativo della persona e l'ablativo della cosa. Abbiamo.